... E qui sono tutti nuovi in fantasia, sono pochissimi nuovi dell'azienda. Come mai non c'è più questo? Riconosce molto tanto l'imprenditore e la sua azienda. Non credo che ci sia un motivo particolare, se non quello di cercare di identificare l'oggetto della propria impresa con il nome. Grazie per la visione!